Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, oggi su Repubblica ho letto un articolo in cui veniva riportato il necrologio di una donna morta anche abbastanza giovane, ok? La particolarità di questo necrologio era che nelle ultime due righe c'era scritto astenersi dalle esequie parenti e vicini. Allora, una volta appurato che non era un meme, uno dei soliti meme dell'impresa funebre, taffo, ok? Ho pensato che di certo chi ha scritto sta cosa non la manda a dire, insomma, cioè nel senso ha affrontato di petto una situazione e una famosa domanda che è sempre attuale, ossia dove finiscono le persone quando hai bisogno, ok? Che ripeto, è una domanda veramente sempre attuale, perché ci sono casi, casi e casi, sia ben chiaro, perché uno di solito ha anche, cioè quello che semina, ok? Ci sono persone che, diciamo, in vita sono state abbastanza rompipalle e quindi è anche ovvio che fanno terra bruciata, però magari ci sono anche persone che quando una persona ha bisogno corre, però altrettanto veloce non è la corsa a parti inverse, mettiamola così. Dove finiscono le persone quando si ha bisogno? Certe persone. Finiscono dietro a frasi di circostanza, secondo me, frasi del tipo, scusa, è stato un periodo un po' incasinato, ma ci sentiamo, ci sentiamo presto, non ti preoccupare, mi faccio vivo io, e cose del genere. Cioè, il problema è che si fa fatica a capire che quando le persone spariscono, ok, a volte se tornano è per magari nei funerali, ok, per pulirsi la coscienza, oppure semplicemente, oppure semplicemente tornano perché vogliono venderti qualcosa. C'è anche sta cosa qua. E a tal proposito, vi racconto sta cosa molto simpatica che mi è successa, anzi, ci è successa un po' di tempo fa. Praticamente a un certo punto su WhatsApp, ok, mi trovo iscritto in un gruppo con scritto Vecchia Compagnia. E vedo che praticamente ci sono, in questo gruppo ci sono tutte, vabbè, i miei amici attuali, però era stato creato da un nostro amico sparito nel nulla anni prima, che aveva scritto facciamo una rimpatriata, cose del genere, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la cosa a noi ci era sembrata un po' strana, ok, infatti io ho detto, beh, vorrei venderci qualcosa. Comunque ci siamo trovati, ci siamo trovati in questo pub, ok. Tanto una persona che all'epoca, non tanto io, ma un altro mio amico, aveva aiutato parecchio, anche a livello economico. Comunque, comunque ci siamo trovati, a un certo punto vedevi che era cambiato lui, vedevi che era molto più sicuro di sé, però alla fine non è neanche una sicurezza, sembra più sicuro di sé, quando entri in qualche cosa piramidale, che fanno un mezzo lavaggio del cervello, cose del genere, ok, infatti lui era entrato in una cosa piramidale. Comunque, avevo cominciato a parlare di cose del più e del meno, fino a quando io ero là che aspettavo, dai, dimmi cosa vendi, che sono curioso, perché sapevo, cioè, si vedeva lontano un chilometro, che era diventato un pseudo venditore, ok. E a un certo punto mi ricordo che ha cominciato quella cosa, ma voi, una cosa del tipo, ma voi, come vi fate da mangiare? E io l'ho cominciato a pensare, questo cosa vende, cioè è una roba, in pratica ve la faccio breve. Praticamente vendeva set di pentole, cioè penso sia stata l'unica persona, ok, finita in una cosa piramidale, sapete, a volte vendono prodotti di bellezza, a volte altre cose, ed è venuto a vendere a noi pentole, un servizio di pentole tra l'altro costosissimo. Mi ricordo che lo guardavo allibito, e a un certo punto l'ho interrotto e gli faccio, ascolta, gli faccio, ma tu veramente vuoi vendermi un set di pentole, cioè a me? E gli faccio, vi ricordo che gli ho detto questa cosa, io non ho tatuaggi, ma se ne avessi uno, c'aveva scritto Findus, ok? Sono una specie dell'imperatore del precotto, e tu vuoi vendermi le pentole da centinaia di euro? E' perché non aneriscono, non fanno queste cose, ti fai le cose da mangiare. Vi risparmio di come è finita, cose del genere, ma è per farvi capire che se a volte le persone tornano, ok, è perché vogliono vendervi qualcosa. Semplice. E buonanotte.